Un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un motociclista è avvenuto nella prima mattina di giovedì fra Broni e Stradella lungo l'ex statale 10. La vittima è un uomo di 50 anni, residente a Canneto Pavese. Poco dopo le 7 di giovedì mattina stava guidando la sua moto in direzione di Broni quando nei pressi dell'imbocco del cavalcavia dell'autostrada A21 per cause in fase di accertamento si è scontrato con un'auto che procedeva nello stesso senso di marcia. La dinamica della caduta è al vaglio dei carabinieri di Stradella ma sembra che una volta a terra l'uomo sia stato investito da una seconda auto che proveniva in senso contrario. Sul posto è subito intervenuto il 118 che ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Stradella e un'automedica ma per il cinquantenne purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno prestato le loro cure ad altre persone coinvolte, nessuna in gravi condizioni. Per consentire l'arrivo dei soccorsi e rilievi da parte dei carabinieri l'ex statale 10 è stata chiusa per alcune ore e il traffico, come al solito molto intenso alle prime ore del giorno, è andato letteralmente in tilt. Le auto e i camion sono stati deviati lungo percorsi alternativi e all'interno dell'area di servizio per i veicoli provenienti da Piacenza in direzione Voghera. Oltre ai carabinieri che stanno cercando di far luce sull'esatta dinamica di questa tragedia, sul posto sono intervenute in supporto anche le polizie locali di Stradella e Broni.